Firmato l'atto di permuta tra le palazzine di Piazzale Boschetti e un terreno di 144.000 metri quadri che permetterà di ampliare grandemente il parco Iris di via Canestrini. Accordo che prevede al contempo il restauro degli storici edifici di via Trieste, angolo via Gozzi in stile Liberty e vincolati dalla sovrintendenza. Da tempo in decadimento rappresentano un buco nell'edilizia del centro storico. Con un'attività di tipo ricettivo dotata di molti servizi, ristorante, sale, sale e riunioni e anche a piano interrato e un garage di un centinaio di posti. Un complesso che integra le palazzine che avrebbero dovuto essere demolite con le vele che sono prospicenti, che fanno parte del parco. Ricordo che anche il parco Iris sarà triplicato, non sarà costruito nulla, per cui senza consumo di scuola abbiamo aumentato il verde, abbiamo fatto un bel parco, abbiamo dato un'immagine diversa quando si entra in città. Però ho detto sempre, Pado è una città stupenda, gli ingressi non sono il massimo, Bassanello, questo, bisogna cercare di migliorare. La città deve essere bella in periferia, quanto è bella in centro. Zero consumo di suolo, un parco cittadino che amplia di tre volte la sua superficie, il grazie del sindaco è andato agli assessori e all'ex vice sindaco Lorenzoni. Dopo un lungo lavoro si è potuto stimare in 5,6 milioni di euro il valore di ciascuno dei beni in permuta. Ci sono voluti 20 anni per fermare la cementificazione delle aree intorno al parco Iris, votata dal Consiglio Comunale nel 2001, ricorda oggi Legambiente. Con l'accordo odierno, più della metà della cubatura concessa allora non verrà edificata e i costruttori avranno in cambio le palazzine abbandonate di Piazzale Boschetti da restaurare.